4, 3, 2, 1, gli attaccanti sono in arrivo. 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 3, 1, gli attaccanti sono in arrivo. 3, 2, 1, gli attaccanti sono in arrivo. 3, 2, 1, gli attaccanti sono in arrivo. 1, gli attaccanti sono in arrivo. 3, 2, 1, gli attaccanti sono in arrivo. 1, gli attaccanti sono in arrivo. 3, 2, 1, gli attaccanti sono in arrivo. 1, gli attaccanti sono in arrivo. 1, gli attaccanti sono in arrivo.